Perché, ecco troviamo, eccola qua, perché agenti della polizia locale di Roma e della polizia di Stato sono impegnati dall'alba di questa mattina per liberare alcuni alloggi atero occupati irregolarmente in una delle torri di Torbella Monaca, che è il quartiere periferico della capitale. All'interno di quattro appartamenti sono state trovate e identificate 16 persone di nazionalità straniera italiana, tra queste ci sono anche quattro minori. L'intervento disposto dal prefetto della città fa seguito alle attività di ripristino della legalità eseguite nei giorni scorsi, in particolare nei quartieri di San Basilio e Adostia.